Scusate, va bene direi che possiamo anche iniziare, allora Claudio Meregalli penso che mi conosciate più o meno, oggi vi parlerò di Outlook e di Notes, però questa volta per chi mi ha seguito negli anni passati sono cambiate un po' di cose, nel senso che un po' di anni fa avevamo parlato di Domino VS Exchange e vi avevo spiegato un po' quali erano i pro e i contro delle due piattaforme, anche da un punto di vista non solo tecnico-tecnologico, ma anche un po' di vision, per quello che ovviamente io potevo poi trasmettervi nelle informazioni che avevo sulle vision dei vari vendor, perché chiaramente poi sono in mano ai vendor questi aspetti. Sono passati un po' di anni da questo primo evento su queste due piattaforme e io ho cambiato lavoro, quindi io non sono più un Domino Administrator, ormai da un po' di anni, oggi mi occupo di ben alto da questo punto di vista, però non ho perso di vista il focus sulle piattaforme di posta, di collaboration e quant'altro e oggi vi porto un'esperienza un po' diversa, quindi andremo a vedere sì alcuni aspetti delle differenze più lato user experience delle due piattaforme, che non puramente tecnico, non ho intenzione oggi di fare il punto tecnico, questa feature ce l'ha Exchange o Outlook, questa feature non ce l'ha Lotus e viceversa, ma di ampliare un po' l'orizzonte. Sono ex Domino Administrator e ex Lotus Notes user, quindi non lo posso dire, però io oggi uso Outlook. e adesso vedremo che cosa è successo nella mia vita. Quindi parleremo di Notes, Outlook e che altro c'è da parlare su queste due piattaforme, vendor, esperienze, vedremo in queste slide. Allora, vi parlo prima delle mie pene. Quando mi hanno passato su Outlook, perché non è stata una mia scelta, come potete immaginare, ho trovato tutta una serie di problematiche. Allora, parto con spiegarvi quelli che sono, dal mio punto di vista, quindi oggi più che da un amministratore pro Lotus, pro Notes, da un utente, quindi una persona che nel day by day usa la posta e tutto quello che riguarda la parte di collaboration, che cosa ho perso, che cosa ho guadagnato, se ho guadagnato qualcosa. Questa che cos'è? La 9, ok. La release 9 ha come elementi chiave di differenziazione rispetto a Outlook alcuni aspetti che secondo me sono chiave, quindi non tanto, ripeto, nell'ambito tecnico-tecnologico, però abbiamo che la 9 in realtà Notes dà diverse versioni a le icone che rappresentano il pallino pieno, mezzo vuoto, eccetera, che rappresentano i destinatari di questa mail, quindi se sono primario, se sono in coppia conoscenza e quant'altro. E questo è un elemento, per esempio, che Outlook non ha ed è molto funzionale ai fini della prima lettura della posta, quando io alla mattina arrivo al lavoro e mi trovo una valanga di mail. Questa lettura è immediata, ce l'ha solo Lotus Notes. L'altra cosa che ha solo Lotus Notes sono le mail info icons, ossia la rappresentazione in icone, in maniera molto, diciamo, leggibile, del scopo di questa mail. Per esempio, se mi arriva una mail di tipo appuntamento, oppure un aggiornamento del calendario, eccetera, tutte queste informazioni sono sempre sintetizzate in un'icona sul lato sinistro delle mail. E questa è una caratteristica piuttosto unica che ha solo Lotus Notes. Scusate, IBM Notes. Devo ancora abituarmi a Lotus, IBM. Sono rimasto un po' Lotus. Altra cosa non banale, l'integrazione con la parte di instant messaging, quindi nel caso di Lotus, di Notes è same time, ha tutta la parte di presence presente in diversi aspetti all'interno del client. In particolare ce l'abbiamo sulla parte dell'inbox. Quindi quando sono all'interno, vado a vedere la mia inbox, ho la presence lì e questo non succede, per esempio, dall'altra parte. Un'altra cosa che ho messo in gialletto, in giallo, che ha Lotus Notes è il Today Week Group. Chi di voi conosce vagamente, ha usato o può dirsi conoscitore di Outlook? Non abbiate paura. Ok. Quindi quando io ho messo questa feature set, voi mi direte, beh, Outlook ce l'ha dato 200 anni circa. È vero. Infatti l'ho messa come abbiamo pareggiato questa feature, che prima non c'era. Prima, per poter andare a selezionare, a dividere le mele in l'ultimo giorno, l'ultima settimana, l'ultimo mese, eccetera, si doveva lavorare su concetti di viste in Notes. Outlook ce l'ha sempre avuta, adesso anche la 9 di Lotus ce l'ha. Altra cosa, same time client. IBM Notes ha sempre avuto, nelle ultime release, la parte di instant messaging, presence, e poi tutta l'evoluzione della collaboration, integrata nel client, o meglio, presente come o stand-alone client per un installato stand-alone, o integrata nel client a partire poi già dall'R8. Siete d'accordo? Benissimo. Questo l'ho messo in gialletto perché è un plus notevole, che non troveremo sulla piattaforma Microsoft. Non ultimo, il look and feel del nuovo client 9 è, devo dire, veramente notevole, perché oltre a utilizzare una grafica molto lineare, ma efficace, perché abbiamo, diciamo, in nero o comunque in grigio scuro, tutta la parte delle inbox, cartelle, viste, quant'altro. Sulla parte alta, se notate quella riga nera in alto, in alto sulla sinistra avete l'accesso a tutte le funzioni di gestione del client, quindi posta, to-do, calendar, eccetera. Quindi abbiamo un mini pannello immediato per l'accesso a tutte le funzioni del nostro client. Oggi vi sto parlando principalmente del client visto come paragonabile al client outlook, cioè posta, collaborazione, parte di diario, quindi calendar, eccetera, non ovviamente la parte applicativa perché mi insegnate che non c'è, semplicemente. Quindi, questo è il dato di fatto. Un altro elemento molto caratteristico di Lotus è la parte widget, clips, plug-in, eccetera. Cioè, tutto quello che riguarda le estensioni, i plug-in, widget, ormai denominati così, che io posso andare a inserire all'interno del mio client come integrazioni di altre funzionalità che possono essere di prodotto, quindi, esempio, il discorso quicker, che poi vedremo che sta transitando verso altre piattaforme, sempre della famiglia IBM, piuttosto che connection, piuttosto che anche widget che sono, permettetemi il termine open, il widget per permettermi di individuare all'interno di una mail un indirizzo e quindi avere subito la mappatura in Google per trovare indirizzo, eccetera. Sono dei widget custom, si possono sviluppare, sono open, non accedono direttamente a dei servizi di IBM, ok? Quindi tutto quel ecosistema di sviluppo che ci permette di estendere le capacità del client in integrazioni. Non ultimo il fatto che nella parte widget vanno a finire tutti quei plug-in di terze parti per le integrazioni con prodotti di terze parti, per esempio, mi viene in mente integrazioni con le piattaforme magari Cisco per la telepresence e quant'altro. Ce ne sono di diversi brand, di diverse case da questo punto di vista. Quindi dicevo, look and feel molto gradevole, molto funzionale alla lettura e all'utilizzo. Ma io uso questo. Questo è Outlook 2013. Io ho passato anni e anni a capire, a cercare di smontare, lato quando ero amministratore nozze, eccetera, l'Outlook come questo fantomatico strumento che tutti vogliono perché era più bello, più funzionale, bla bla bla. Il risultato è questo, che secondo me, se dovessi fare un sunto della storia, di questa piccola mia storia, sono arrivato nell'anno sbagliato. Cioè l'Outlook prima del 2013 era molto meglio di questo. E credo che sia, passatemi in termini, sfiga, perché tutti rincorrevano su questo maledetto Outlook, arrivo io e dico, vabbè, adesso mi è andato questo, dicono che è il più bello, e mi trovo davanti a sta cosa qua. Che cosa si nota in prima battuta? Così. Flat. Eh? Bianco. Cioè, si capisce niente. Sulla sinistra, vabbè, avrei l'inbox, le cartelle, eccetera. Però, devo dire che l'usabilità su... Va bene? Guardate, vado avanti e ve lo dico sotto. Così la facciamo veloce. Loro la chiamano interfaccia minimal. Però, è veramente piatta. Cioè, non si riesce neanche a individuare le aree. Se non fosse che ho mappato che a sinistra ci sono le mail e a destra c'è la visualizzazione della posta. Ok? Gli aspetti principali del client Outlook sono interfaccia minimal, va bene. Va bene. Sulla sinistra Outlook ha la gestione multi-account. Perché? Perché essendo un client solo di posta, non ha un'interfaccia più avanzata dove può andare a gestire multi-database come fa Notes, per la posta, dove io ne posso avere 200. Io gli account e quindi le mailbox le gestisco all'interno dell'unica interfaccia che ho a disposizione. Quindi io ho lì, se avessi 10 account avrei 10 inbox in lista. Ok? Discutibile, comodo, scomodo, va bene. Questo è. La presence. Lascio stare tutto il resto. Cioè, tutto quello che riguarda il fatto che con IBM Notes io vedo due righe di anteprima del messaggio nell'inbox, in Outlook ne vedo tre e ne potrei vedere di più. Tutte queste finezze un po' fighettate, le lascio perdere, ok? Vado sulle cose un po' più importanti. La presence di Outlook esiste solo all'interno della mail. Quindi, se io ho questa visualizzazione, che è quella che ti danno generalmente, riesco a vedere correttamente, scusate ma ho un problema tecnico. Ok. Riesco a vedere correttamente la presence, quindi se c'è qualcuno che è disponibile per la chat, eccetera. Poi non parliamo, non anticipo su che tipo di strumento. Se io non avessi l'anteprima della mail, così come ce l'ho adesso, quindi dove c'è il pallino presence, io non ho visibilità del fatto che c'è un'integrazione con un sistema di instant messaging e non ho neanche visibilità se c'è presence o no. Ok? Quindi devo avere per forza questa visualizzazione. Ok? Poi il fatto dei pallini verdi, rossi e gialli, ok, tutto un discorso molto, molto, diciamo, soggettivo. L'altra cosa che salta all'occhio è quello che ho messo qua a destra. Che cos'è? Link. Link, l'inch, lo chiamano in molti modi. Sta di fatto che questa è la soluzione di instant messaging di Microsoft. Ora, non andiamo a parlare specificatamente di questo, però, qual è l'elemento chiaro in questa fotografia? Cos'è che vi balza all'occhio? Eh, esatto. Ci ho messo l'ombreggiatura. E questo è una finezza di PowerPoint, eh? C'è l'ombreggiatura. Perché? Perché è un client stand alone. Quindi, Outlook, con tutta la capacità di integrazione che ha sulla Terra, ha un client di posta e un client di instant messaging. Separati. Ok? Non c'è integrazione. Se non che, quando tu installi questo, lui installa un plugin che ti fa vedere la presence da quest'altra parte. Ok? Detto tra me e voi, io non ho, nel mio desk, nel mio client, non ho l'integrazione con l'inch o link, ne ho un altro, un terzo che non posso citare, o non cito, e fa l'identica cosa, cioè fa lo stesso lavoro, identico, non c'è proprio nessun valore aggiunto dal punto di vista funzionale, la mia esperienza di utente nell'avere come client di instant messaging link o un terzo. Al netto che poi uno può dirmi link, piuttosto che send time, piuttosto che il terzo, è più o meno bello e più o meno funzionale. Ok? Adesso non mi metto a discutere la piattaforma di instant messaging. Però come user experience mia, che lì ci fosse un send time, non mi cambiava assolutamente niente. Al netto che send time avesse poi la presence integrata e ce l'ha, tra virgolette. Parliamo di webmail. Quindi io ho l'esperienza come client, ma poi ho l'esperienza anche come parte webmail. che dire di questa webmail? Che è uguale al client outlook? Sì, è flat uguale. Però ha tre cose peggiorative. Uno, non ha il controllo ortografico integrato. L'outlook ce l'ha. Notes ce l'ha. Ha un editing limitato, cioè quando io sono via browsing non posso far tabelle all'interno di una mail. Non ha nessun tipo di integrazione con link. Anche qua link è un oggetto completamente scollegato. Invece send time anche nel mondo i notes quindi anche nella parte web ha l'integrazione, ha la presence. Ok? Non è il full feature client che ho col send time come client però ho tutto un subset di funzionalità di integrazione. E io questo l'ho scoperto a mio cioè con mio dolore perché io pensavo che quando mi hanno imposto l'outlook ho detto vabbè il nemico un giorno è arrivato e me lo sono beccato. Pensavo comunque alla fine di fare un passatemi il termine salto di qualità di diventare uno dei tanti che non si lamentano che hanno l'autosnoz perché questo era il mondo fino a poco tempo fa. Aggiungo che in realtà è flat uguale all'outlook in termini di estetica però non è prettamente uguale perché anche la disposizione delle funzioni l'accesso alle opzioni è diverso non è uguale anche solo il fatto che di qua mi ha messo delle icone colorate di là non c'è neanche le icone. cartelle inbox sono finezze ma se lo faceva Notzer veniva stroncato che faceva queste differenze. Questo che cos'è invece? È l'iNotes? Questo è il client Notes via browser ed è identico. Quindi se è vero che nelle versioni precedenti di Notes c'era una certa differenza anche di look and feel ma anche di esperienza tra il client Notes e l'iNotes nelle versioni precedenti con la 9 abbiamo fondamentalmente la stessa interfaccia e non voglio dire al 100% le stesse feature però siamo molto molto vicini. La experience è identica perché ho sempre sulla sinistra tutti i menu la barra in alto la vedete quella nera come nel client Notes 9 mi dà accesso a diario calendar contatti nello stesso modo nello stesso modo come la 9 le finestre sono dei tabs quindi li vedete ce l'ho il laser fantastico Scott vedete qua ho i tabs quindi ogni finestra è un tabs così come succede nel client Notes invece in Outlook nella parte web OWA così chiamato le finestre sono in pop up sono in modalità pop up quindi c'è anche un po' un problema se vogliamo dirla tutta che quando ne apro più di una ho un po' un casino col browser a gestirle se non ho il blocco dei pop up non ho fatto i test con queste cose però si è bloccato il laser mi ha lasciato ah sorry è venuto fare un casino don't worry these notes ok ok but does not work anyway there is a problem with working yes yes try again ok just a second ok that's ok thank you quindi quindi dicevamo stessa interfaccia stessa user experience questo è quello che mi ha mi ha diciamo tralasciato mi ha lasciato abbastanza estere fatto del di come si sono evolute le diciamo soprattutto il lavoro della user experience lato IBM verso il mondo Microsoft qualche anno fa non l'avrei mai detto e poi ci sono gli elementi oggettivi quindi fino ad adesso vi ho parlato se volete di elementi altamente soggettivi nel senso che qualcuno che usa auto da più tempo di me poteva anche dire ma non è vero perché secondo me questo è più bello eccetera quindi la soggettività è un elemento sempre discutibile poi ci sono quelle cose oggettive ho preso solo le cose più diciamo caratteristiche delle differenze firma il Lotus Notes 9 è embedded nel database di posta quindi è centralizzata se io metto una signature una firma in Notes quando sono da web o dal client ho la stessa firma pensavate che era uguale in Outlook? no ho scoperto le mie spese due cose uno che se tu hai Outlook hai un accanto configurato fai la firma ok ho fatto l'upgrade del sistema operativo piellato rifatto ho installato auto ho perso la firma ho scoperto che la firma è locale quindi sono andato via web e ho detto ok mando una mail da web non c'è la firma ho dovuto fare la firma anche da web quindi ho due firme una in locale sul client e una via web se rifaccio il client la perdo e la devo rifare anche via client banalità certo però ho una rottura di balle sorry archivio questo invece è grave secondo me però questa la sapevo già prima che mi dessero Outlook allora indosso l'archivio anche se ce l'ho in locale lo posso replicare su server e lo posso gestire o in locale o tramite policy server in maniera indifferenziata è una scelta paradosso incredibile non ti permette fare anche multi archivi e addirittura potrei fare gli archivi in cascata l'unico limite se possiamo dirla tutta è che sull'archivio secondario non posso applicare delle politiche per andare in giù cioè la politica è solo dalla posta al primo archivio primo livello dal primo livello agli altri me la gestisco a mano non posso fare una policy che dice tutto quello più vecchio di un anno lo porti dalla posta all'archivio 1 tutto quello più vecchio di due anni dall'archivio 1 è giù ok questa cosa non si può fare nelle mie nottate ci ho pensato vabbè se avete exchange scoprite che l'archivio locale non può essere replicato su server prima grande cosa è un è un file locale e la cosa peggiore è che se io faccio l'archivio su server non lo posso replicare in locale quindi devi decidere cioè o ce l'hai in locale e te lo tieni e te lo perdi se perdi il tuo pc oppure lo gestisce l'azienda l'amistratore exchange che te lo fa su server ma tu non lo gestisci e non te lo puoi neanche portare via non c'è scelta è così typehead con nozzi adesso praticamente potresti scrivere anche l'indirizzo della tua azienda e te lo fa in automatico dimmi credo per fare l'attivio il server perché in ogni modo di portare via e creare un file locale e l'indirizzo in tutto quanto a maniera sì no lo puoi fare però non è una procedura automatica cioè devo chiamare no 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 devo chiamare l'amistratore di exchange e dirgli mi scarichi il mio archivio e cioè me lo trasformi e non fai il pst che me lo porto via però poi dopo è un oggetto stand alone non c'è una sincronizzazione io prima avevo il mio archivio aziendale però sincronizzato in locale e indicizzato in locale che quando andavo via avevo tutta la mia posta eh typehead dicevo in nozzi puoi fare nome, cognome numero di telefono adesso puoi scegliere quali campi nelle preferenze del client in quali campi fare look up quando io scrivo all'interno del campo a, c, c ecc e inizio a scrivere i nomi i valori in più ti viene una finestra tendina per la scelta perché ho posso avere scelte multiple pure categorizzate in outlook no scrivo il cognome la prima volta e non viene fuori niente scrivo il nome e allora mi viene fuori quindi a supporta solo il nome se scrivo il cognome il gioco è ctrl k quindi devo chiedere al sistema di farmi una una verifica del look up schiacciando ctrl k se no il cognome rimane lì e non si sa cosa succede quando poi fai send poi probabilmente in exchange ci sarà un tramite dot net non so che cosa un sistema per modificare in exchange tutta la cosa lato server però come utente io soffro questa cosa qua e mi hanno detto che questo è user experience anche qua l'abbiamo vista prima mail client e web client cioè l'IBM notes client e l'inotes sono fondamentalmente ormai identici quindi al netto di qualche limitazione che può avere la parte i notes web figlia anche della tecnologia client browser ok sono praticamente identiche in outlook invece outlook e owa restano sensibilmente differenti al netto che sono flat troppo bianco messo come indicazione questo potrebbe essere d'aiuto anche alla apple che ultimamente è andata troppo sul bianco ha virato troppo altro fattore sicurezza non ho sempre basato sull'id e qui non c'è non c'è cosa che tenga non c'è niente di più sicuro che l'id digitale come elemento di sicurezza di garanzia d'accesso rispetto a qualsiasi altro livello di sicurezza dove in outlook l'unica sicurezza che mi viene garantita è quella della password del sistema operativo quindi l'accesso a livello di macchina è l'unica sicurezza per il mio client outlook feature in generale notes è un client di posta è un client applicativo ed è un client molto orientato al social il fatto che integri fortemente anche la parte di collaboration instant messaging eccetera ne è un elemento chiave il client out che invece è un client di posta è in parte sociale ho messo in parte sociale perché in realtà se io voglio integrarmi con linkedin facebook e tutti questi ci sono i plug-in che però sono dei plug-in client quindi ognuno di noi come utente si installa il plug-in client anche banale per l'amor del cielo però non c'è una centralizzazione nella gestione dell'integrazione con gli ambienti social ok poi vedremo la soluzione social di Microsoft che cos'è se volete spaccare il bit cioè andare a vedere in dettaglio tutte le differenze tra il client a serve client notes e l'outlook allora andate a quel link che vi ho messo sotto perché è stato fatto vero da IBM però devo dire che io l'ho letto più e più volte e devo dire che è stato fatto bene cioè effettivamente è abbastanza oggettivo ci sono il 90% delle cose sono oggettive poi ci sono sempre quel 10% di marketing che ci sta l'ha fatto IBM ma la domanda è è possibile usare Outlook 2013 come client di posta di domino? don't answer so allora innanzitutto non stiamo parlando di Damo ve lo ricordate Damo? quel casino bordelloso che abbiamo dovuto mettere in campo per i VIP e ci ha distrutto l'esistenza ufficialmente non è supportato ma IBM Traveler supporta Windows Mail 8 e Mobile ora se io ci penso che cosa c'ha Windows Mail 8 e Windows Mobile di diverso rispetto ad Outlook o meglio che cosa ha Windows Mobile 8 e Windows Mail 8 uguale ad Outlook sì ActiveSync bravissimo allora e allora qui la domanda successiva ma se tutti e due questi usano ActiveSync e Outlook guarda caso usa ActiveSync perché cavolo non funziona ActiveSync Outlook su IBM Traveler la risposta non è banale allora in parte sta in questo comando Scott close your eyes please allora il Windows Mobile 8 RT usano la versione 12.1 di ActiveSync il vostro Traveler la usa per default l'Outlook usa la 14.0 che il vostro Traveler non conosce e non sa gestire forse questo comando c'è ed è riferito a due fonti the first one Scott Sauder will speak about this question probably this evening I don't know ok io vi posso dire che era nato sul forum di Microsoft questa questione c'è stato un po' di dibattimento poi è saltato fuori questo setconfig NTSS protocol version con la versione giusta qualcuno l'ha provato e ha funzionato qualcuno l'ha provato e non ha funzionato guarda caso destino vuole che Daniele l'ha provato e ha funzionato io l'ho provato e non ha funzionato quindi siccome ho il 50% di diciamo di valore no è vero a me non ha funzionato però quindi da ex amministratore domino non posso dire che funziona perché il 50% non è funziona quindi vi dico la strada c'è gli elementi ci sono qualcuno ci dirà qualcosa in più io ho buttato solo una palla e basta comunque diciamo che tutti gli elementi ci sono per arrivare qua in fondo dovete tenere presente però una cosa molto importante il peso di un client mobile o Windows RT è molto insignificante rispetto al peso di un Outlook in termini di carico CPU RAM e risorse richieste al Traveler quindi non pensate che se anche arriveremo a sopportare a vedere Outlook che funziona al 100% con un server domino questo non avrà un prezzo da pagare in termini di infrastruttura ok perché non potete pensare di avere 1000 client notes e un server domino e avere 1000 client Outlook è un server traveler che fa anche altro ok quindi non ci sarà qualcosa da pagare però ma andiamo avanti allora questi qua sono 4 device famiglie di device famiglie di device smartphone tablet laptop wall station noi dobbiamo servire tutti e come mail calendar e IBM ci dice IBM notes e IBM traveler application e notes ci dice faccio le applicazioni sulla piattaforma collaboration e IBM ci dice IBM same time social e IBM ci dice IBM connection ho chiuso tutto questo framework di prodotti o di feature sotto la voce IBM domino nove social edition anche se non è del tutto corretto nel senso che in termini di prodotto non è corretto perché in realtà IBM same time e IBM connection sono due prodotti separati rispetto a domino giusto? o lotus domino poi che same time si appoggi sull'infrastruttura domino ok e che IBM connection si integri con l'infrastruttura domino ok ho messo questo cappello come diciamo unico framework solo per indicare questo che dal mio punto di vista soprattutto come end user il client notes mi permette di avere un'esperienza completa nel senso che il fatto che il mio client integri fortemente same time connection poi anche la parte documentale mi dà una visione lato utente completa della mia esperienza tant'è che la 9 di notes è chiamata social edition mica per un cacchio ci sarà un motivo ve lo spiegherà Scott ma ci sarà un motivo nell'altro mondo abbiamo outlook e active sync per la parte mappata 1 a 1 posta e la parte travel vabbè in termini di server sarebbe exchange parte applicativa ho ho sbagliato dovevo scrivere vabbè dovevo scrivere ah ok scusa mi è arrivata dopo lapsus exchange 2013 che copre la questione outlook e active sync active sync per tutto il mondo mobile e outlook sync sharepoint per la parte applicativa link per la parte collaboration e yammer che non sapevo neanche che esistesse ho scoperto che esiste che è un'acquisizione tra l'altro abbastanza recente per la parte social è la soluzione social non so se l'avete mai sentito voi yammer si ok quindi è integrata ok così ho solo chiesto perfetto questa è più o meno la mappatura ma andiamo oltre perché non so quanto tempo ho io oh cocane pensavo di non farcela non ce la faccio è arrivato un altro pop up ok forester dove utilizzi questi device allora questa è la fonte global business and consumer tablet forex update 2013 tu 2017 è una proiezione sono tutte quelle robe di marketing fuffa che in genere troviamo dappertutto però c'è un elemento importante secondo me da guardare computer tablet smartphone qui non stiamo parlando di brand parliamo di famiglie al lavoro io uso di più il computer e un po' meno lo smartphone il tablet scusate lo smartphone giusto il terzo poi vado a vedere le altre condizioni di vita e scopro che l'unico caso in cui io uso di più il mio pc che sia un laptop o un fisso per guardare al lavoro in generale sto parlando è quando sono aiutatemi al lavoro quando sono sul postazione di lavoro questo mi fa pensare almeno a me mi ha fatto pensare non ho dormito tutta la notte perché ho detto cacchio il mio computer lo uso solo quando sono a lavoro poi quando sono in giro e tra l'altro non sempre perché guardate qua questo 67% adesso al di là che questo è sempre una proiezione americana bla 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 e gli americani sono sempre più avanti di noi Houston al di là di tutto ciò effettivamente chi di voi può dire che quando è al lavoro seduto sul tavolo scrivania eccetera e ha il suo bel computer fisso portato che sia ogni tanto non guarda la posta col suo smartphone perché? c'è lì il client di posta perché è comodo? bravo eh? vabbè ok adesso lasciamo perdere gli smanettoni è ok perché è comodo? pensa se tu invece di un dello smartphone c'è lì il tablet più o meno più o meno lo stesso se li hai tutti e tre la cosa divertente è che se lì arriva una mail senti blim 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 no? che in genere l'ordine qual è? smartphone tablet e per ultimo il pc avete notato? non sto scherzando eh? cioè questo è l'ordine con cui arrivano le mail quindi se facciamo così una cosa molto la grossolana diciamo che forse il client più utilizzato non è più per la posta soprattutto non è più neanche il client che uso sul mio windows sul mio pc siamo abbastanza d'accordo? ok poi è chiaro decliniamolo nei lavori uno che sta a lavorare 500 ore al giorno in un cassonetto e ha solo quello è chiaro che lo guarderà solo lì la posta no? andiamo avanti però a mano allora e questa era l'evidenza quindi la domanda a tutte le domande qual è il miglior client? e i bm notes potete dire sì no qui c'è il fattore hola e outlook e ios mail e android io li ho messi tutti tablet e smartphone per non essere razzista e blackberry? ne rimane only one the islander o è windows 8 rt phone pro e tutti gli altri la risposta a questa domanda probabilmente potrebbe essere questa in realtà il miglior client è la piattaforma in grado di soddisfare multi device multi os multi browser o meglio quella che mi garantisce accessibilità fruibilità dell'informazione all'interno di una user experience adeguata dopo di questa presentazione penso che mi scriverò al forum dei poeti perché al netto delle cavolate che posso dire però chi può dire che non è vero il fatto che ormai abbiamo una valanga di device e l'unica cosa che sappiamo è che ne avremo sempre di più i sistemi operativi prima c'era solo windows adesso grazie al mondo smartphone mobile ce n'è una valanga e ormai stiamo transitando l'utilizzo della posta dei sistemi collaboration e comunicazione non sullo strumento fine a se stesso cioè uso il pc o non uso il pc ma il fine con cui io lo vado a utilizzare o meglio la condizione con cui lo vado a utilizzare è dove mi trovo qual è la cosa che ho immediatamente a portata di mano oggi sono fuori dall'azienda io ho qua solo lo smartphone quindi io la posta la guardo dallo smartphone se vado a stimare quanto tempo passo guardare la posta sul mio smartphone rispetto al mio pc ho paura che venga fuori che vince lo smartphone e allora tutti questi discorsi il mio client ha cosa in alto a destra rosso quell'altro blu io ho però il pallino verde io però poi alla fine stiamo usando tutti dei client che il client lotus notes 2 3.0 era più evoluto di qualsiasi client stiamo usando adesso di posta perché non venitevi a dire che il client di posta dell'iOS o dell'android ha qualcosa di magnifico però l'hanno accettato tutti hanno accettato tutti in maniera democratica che il client di posta sia meno potente meno ricco eccetera ma che soddisfi la mia esigenza di mobilità questa è la vera democrazia a cui stiamo assistendo oggi poi si c'è da dire qualcosa in più su questo discorso perché allora a questo punto vi starei dicendo che tu hai notes o domino o che tu exchange non importa l'importante è che domani mattina vai e corri e vai al lavoro in realtà non è vero perché ci sono delle differenze cioè quello che io scrivo qua in multi device multi OS e multi browser non è così vero per tutti perché perché la domenica ok mappatura vedi che alla fine non sono più amministratore però un po' di lavoro lo faccio windows 7.8 client notes 9 outlook 2013 user experience vabbè soggettiva su macintosh notes 9 su outlook outlook 2011 è diverso ma è proprio diverso esteticamente linux notes 9 outlook non pervenuto user experience non confrontabile ipad iphone client nativo per traveler scusate allora sul mondo ipad iphone abbiamo il client nativo di posta il che significa che se io ho outlook o exchange o domino dietro concettualmente alla user experience non cambia niente tranne che grazie a traveler companion io ho in più le mail criptate l'out of office e basta giusto? ho detto ho detto un cacchio ho le mail criptate e ho l'out of office io stamattina mi avevo dimenticato di mettere l'out of office e l'ho dovuto andare su OWA browser e mettere l'out of office OWA OWA outlook al client nativo punto built in exchange active thing same same per quanto riguarda la posta stessa esperienza quindi le feature che ho usando l'iPad o l'iPhone e dietro un exchange o un domino al netto del traveler companion sono uguali no? Android allora IBM ha sviluppato un client ad hoc invece il mondo outlook usa il client di Android ora domanda quanti client di Android ci sono sul mercato? o meglio quanti sistemi Android customizzati ci sono sul mercato? una valanga io mi ricordo una slide bellissima che non ho qui riportato della frammentazione che era quella con cui Apple diceva Android è una cacca c'era Apple iOS le sue due tre versioni tutto a posto perfetto preciso poi c'era Android la deframmentazione erano un miliardo di versioni no? al netto delle questioni di marketing è vero cioè la versione Samsung HTC LG eccetera della mail client sono diverse cambia la grafica nel 90% delle feature no cioè funzionalmente il 90% della posta è uguale ma cambia la grafica cambia che il pallino è in alto a destra o in alto a sinistra e queste sono differenzazioni e qui l'OTU IBM ha fatto secondo me una scelta strategica cioè quella di dire io non posso darti la stessa esperienza su tutte le piattaforme che escono usciranno perché è un casino però almeno su una piattaforma che è molto frammentata ti do un client che ti garantisce su tutta l'esperienza Android la stessa esperienza quindi tu puoi avere il Samsung puoi avere l'LG puoi avere la versione 2.2 o 4 io ti do un client con la stessa esperienza e funzionalità così se ti sposti dal Samsung perché oggi costa di più di meno e vai sull'HTC perché lo preferisci non ti cambia niente al tuo utente funzionalmente parlando e in più ho sempre il companion per cui qui non l'ho segnato però ho la criptazione out of office ho delle feature più avanzate Blackberry ahimè so sorry but only one people in this room 2 old Blackberry very old Blackberry 10 anche lui si è convertito al male perché usa ActiSync anche lui quindi anzi è proprio mandatorio quindi l'esperienza è quella del client Blackberry Windows 8 phone client nativo client nativo quindi su Windows è uguale che c'è in Exchange non cambia niente e qui vi ho dato la panoramica che non voglio dire bestemmie però fra due anni almeno questi copriranno il 70% dei device nel mondo così sto sparando dei numeri alla marketara però mi aspetto che avrete più di questi che non PC giusto? ho detto giusto? si pop up block the domino session eh no function tab ah ok thank you ok a che ora devo finire? 5 minuti wow incredibile e per e per concludere è la prima volta che finisco in tempo se avete domande nel frattempo prego se non vuoi usare prodotti di terze parti specifici che si integrano la cifratura la puoi fare solo tramite firma digitale tramite certificati SSL bisogna rifare quello che domino ti dà nativamente usando le certification authority detto anche che nessuno lo fa perché chi è exchange autrug non percepisce non sente questa esigenza cioè non è nel dna di quel prodotto infatti cioè io ti dico a me mi hanno portato mi hanno spostato da noz eh? sì sì no ok per quello che sapevo perché anche io mi trovo nella stessa situazione tua troppo usi la certification authority di IIS no no allora che la certification authority può essere private non è un problema cioè puoi usare quella di microsoft eccetera però nessuno lo fa cioè se tu trovani un'azienda che ha exchange che ha implementato la certification authority per fare la security con i certificati SSL per la posta non lo fa nessuno ok e fare enrollment dei certificati usi l'acti directory per fare tutto sto giochino perché exchange è solo figlio dell'acti directory non è un eh sì ah ok però io domino ce l'hanno tutti quelli che ce l'hanno mandatoriamente nel dna hanno questa cosa e ce l'hanno embedded gli altri no il paradosso che adesso esce fuori l'iPhone 7 e mi mette su l'impronta digitale no e diventa abbiamo scoperto il mondo e purtroppo succederà che è così l'iPhone 7 riuscirà a spingere a livello marketing a livello di tante altre cose tanto per cui l'impronta digitale diventerà un must quindi la sicurezza diventerà un must per il mondo smartphone sicuramente sarà così eh dipende chi spinge quando spingeva IBM andava bene per il comparto militare andava bene per alcuni ambiti per la maggior parte delle nostre aziende a meno per la mia esperienza personale era più una rottura la gestione delle ID che non un valore no adesso probabilmente si tornerà indietro beh però lì è un discorso più complicato complicatissimo l'NSA altre domande sopra sediamo next anche così può essere curiosità sì non ho capito exchange la mia unica speranza è quella che ho detto prima cioè usare outlook usare NOS con exchange assolutamente no non è possibile non è possibile nel senso no è una forzatura devastante farebbe più male che bene sì sì no 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 che è fattibile sì però devo usare pop e map queste cose qua eh ho capito però io sono ormai un utente 3.0 non 2.0 cioè io voglio la sincronizzazione in real time tutto sincronizzato con tutti i miei smartphone cacchi mazzi tablet eccetera e accetto di mediare con un po' p-map ecco no quindi no non posso scendere così in basso cioè come experience ok poi si può dire tutto quello che si vuole però no dimmi sì Zimbra in questo contesto allora secondo me però in realtà è più una questione di strategie di mercato che non di altro eh non esiste nel senso che eh Zimbra che poi adesso è di VMware se non ricordo male eh è una piattaforma che fondamentalmente è sempre stata il clone di Outlook Exchange a basso prezzo no e va benissimo per l'amor del cielo eh però ti dico oggigiorno eh c'è Notes c'è Exchange On-Premises se uno di questi due decide di fare uno spostamento al netto di acquisizioni e cose di questo genere dove chi vince sposta probabilmente la tecnologia verso di sé quindi se vince l'azienda che ha assorbito e ha Exchange magari gli sposta tutti gli Exchange o domino l'unica l'unica vera cambiamento che io posso vedere a livello di mercato e anche strategico è passare da On-Premises a Cloud quindi vedere che eh questo può essere e qui un nuovo mercato si può aprire cioè chi aveva Domino o Exchange a questo punto si trova un nuovo prodotto Cloud quindi Smart Cloud di IBM o la parte Office 365 di Microsoft come piattaforma di arrivo per il sistema di posta tutto questo perché perché in Zimbra cosa manca manca una vision cioè che se ne dica IBM e Microsoft hanno comunque una vision sull'integrazione dei loro prodotti delle loro piattaforme sul fatto che c'è la versione On-Premises la Hybrid o la Cloud ti danno diverse scelte bla 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 Zimbra secondo me un'olta che è stato acquisito è diventato un tassello dell'infrastruttura o della proposition di VMware ma neanche fondamentale cioè non ne vedo la strategia capisci? da questo punto di vista però poi probabilmente come prodotto va benissimo se io fossi che ne so un piccolo cloud provider piccolo no magari adotterei Zimbra come piattaforma per dare servizio dei clienti perché perché è fatta è finita non ci vuole un nuovo della madonna non è come il mondo open di Linux dove mi devo post fix rabbattare costruire io eh capito ciao applausi grazie a tutti grazie a tutti